Benvenuti nella selva niozelandese. Dopo un soggiorno breve a Gremont, ho avuto una visione mistica notturna. Mi parlò in sogno e mi disse o nio, ma in doppio fai, te lo do io in questo salto. E mi ha indicato questo palco, il palco di Abel Tasman. E ora eccoci qui nella prima cascata per bagnarci delle acque pure che scorrono in questa terra. Grazie.